cubi e ingazzate buonasera buonasera allora è appena finita la partita è appena finita la partita ditemi voi ditemi voi due punti due punti abbiamo abbiamo due punti due punti abbiamo stasera era l'occasione perfetta per dimostrare qualche cosa era l'occasione perfetta per dimostrare qualche cosa ma ma ditemi voi quando io dico una cosa quando io dico quando io dico che quando io dico che che in questa squadra non c'è gioco non c'è qualità non c'è niente non c'è niente non c'è niente che può migliorare non c'è più niente che si può migliorare perché i giocatori sono quelli e quando io dico che ci vuole un centrocampo di qualità che noi non abbiamo io dico la verità io dico che cazzo di giocatore è rabbio che cazzo di giocatore è ben d'ancor mi stanno imbassardendo pure a Locatelli che forse è l'unico dai piedi buoni ma ragazzi miei ma che cazzo dobbiamo andare c'è ancora l'Alexandro porca potata sembra un cadavere sembra un cadavere non sa più neanche di essere al mondo non sa più neanche di essere al mondo ditemi voi che cosa avete visto ditemi voi ditemi voi che cosa avete visto in tutta la partita in cosa che cosa è nata questa squadra è tutto un accumulo di un accumulo di giocatori che l'avete a campo e poi lancio lungo palla lunga e pedalare palla lunga e pedalare è tutto un portare palla è tutto un portare palla non c'è scambio non c'è un triangolo non c'è una ben amata minchia non c'è una ben amata minchia e poi mi parlate ancora ah ma la Juve 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 che cosa la Juve questo è tutto allenatore a Lega Ciuchina chiamalo come minchia di fare chiamalo come minchia di fare questo mi viene ancora a parlare di condizione visita ma ragazzi ma a chi cazzo vuole prendere per il culo a chi cazzo vuole prendere per il culo questo a chi cazzo vuole prendere per il culo ma ditemi voi ma 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 porca ma porca puttana dico io porca puttana due punti abbiamo due punti e questa squadra secondo voi questa squadra secondo voi può lottare per un qualcosa può lottare per un qualcosa il Milan e il Milan manco il Milan ha fatto qualche cosa però porca puttana si vedeva che qualche idea di gioco ce l'aveva qualche scambio ce la può faceva ma noi che cazzo facevamo che cazzo facevamo noi proprio che cazzo giocatore era più ma io dico ma come si fa dare 7 milioni all'anno a uno a uno con quei capelli con quei capelli da fare una bambola non è capace manco di correre da un po' ben d'anguore è un macellaio è un macellaio non ha qualità non ha qualità non ha qualità di bala pure lui stasera è tutto un portare palla e portate la casa palla se ti piace tanto ed è una vergogna è una vergogna è una vergogna due punti chifosi vergogna comunque bisogna sempre onorare solitamente bisogna sempre rispettare questi colori bisogna sempre onorare la maglia comunque iscrizione al canale lasciate un like lasciate un dislike fate quel cazzo che volete commentate ditemi la vostra condivisione del video e vi auguro una buonanotte dai copri incazzati